PEGI 16 Anna! Ci sei? Rapporto! I Cabal hanno fatto fuori il motore principale. È come se volessero che scivolasse nello spazio per sempre. Non per sempre. L'Onnipotente sta precipitando sull'ultima città e non abbiamo alcun modo di fermarla. Siamo noi guardiani a dover prendere decisioni difficili in caso. Oh, ho aspettato tanto questo momento. Ma li ha perso! Finiteli! Amo tutto questo! Sei piombato su di loro come un rapace! Amo tutto questo! красi!